Mettere al servizio di pazienti con menomazioni delle funzioni sensoriali, motori o cognitive, percorsi riabilitativi innovativi e personalizzati, è stato inaugurato nell'Istituto Maugeri di Bari il Centro di Eccellenza per la Robotica Riabilitativa, che rientra nell'ambito del progetto Fit for Med Rob, finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari del PNRR. Le tecnologie saranno impiegate nel percorso riabilitativo di pazienti affetti da Parkinson o in condizione di post-ictus amputati, con gravi lesioni cerebrali acquisite e mielolesioni, neuropatie, ma anche soggetti affetti, da deterioramento cognitivo lieve e anziani fragili, nonché pazienti che necessitano di terapia occupazionale. Grazie alla robotica, combinata con l'esperienza dei professionisti, questi pazienti beneficeranno di soluzioni terapeutiche personalizzate per la specifica disabilità, con valutazione integrata in tempo reale della risposta, il tutto in uno scenario più stimolante per il paziente. Tra gli obiettivi è anche quello di creare nuovi percorsi accademici e opportunità professionali per attrarre e sostenere talenti nell'ambito della ricerca e sviluppo di soluzioni robotiche e tecnologiche integrate digitali, con importanti ricadute anche in termini socio-economici per il territorio. Il progetto dell'Istituto Maugeri in un primo momento vedrà il coinvolgimento di pazienti già in cura presso la struttura in trial sperimentali con attrezzatura robotica, con l'obiettivo di ampliare le evidenze scientifiche sull'efficacia di questa strumentazione, per arrivare in un secondo momento a erogare il servizio come pratica clinica a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Il centro di eccellenza per la robotica riabilitativa sarà dotato di dispositivi robotizzati sia per la riabilitazione degli arti superiori che inferiori, sia per la mano. Sarà in particolare presente una completa dotazione strumentale in grado di assistere le varie fasi riabilitative in funzione del grado di disabilità e delle capacità motorie residue. Siamo in presenza di una innovazione fortissima e utilissima nel contesto della riabilitazione, soprattutto quella neuromotoria. Siamo nella tecnologia della robotica, anche in questa disciplina, che è estremamente importante e che dà prospettiva, dà speranza, soprattutto ai pazienti, perché si tratta di pazienti gravi e che sostanzialmente attraverso queste tecnologie riescono ad ottenere dei risultati che riportano in un contesto di autonomia possibile. La Puglia ha varato il piano e lo stanziamento per finanziare totalmente la spesa del 2023. La Giunta ha adottato una delibera da 100 milioni di euro e noi quindi abbiamo pareggiato i conti della sanità, sia pure con molti sacrifici, nonostante il governo non ci abbia dato un soldo in più nel 2023, nonostante l'aumento dei costi per il personale a causa dei nuovi contratti, nonostante l'aumento dei costi per l'inflazione, nonostante l'aumento dei costi per l'energia. Significa praticamente che noi nel 2023, nonostante i tagli, perché di questo si è trattato del sostegno del governo alla sanità pugliese, siamo riusciti a chiudere i conti in pareggio.